ciao ragazzi e benvenuti su chi era un giro attorno al mondo dell'orloggeria sono pietro e oggi di cosa vi voglio parlare di lucio dalla no è un grandissimo cantante che io adoro ma no non è di lui del compianto lucio che vi voglio parlare ma vi voglio parlare di tazio nuvolari una canzone tra l'altro una delle belle canzoni una delle dieci forse belle canzoni di lucio dalla e questa volta però ve ne voglio parlare parlando ovviamente dell'orologio di questo orologio crono secondo me molto bello questa edizione speciale di eberhard che ho avuto la possibilità di testare grazie alla gioielleria rosa spina di bergamo sono gioielleria molto conosciuta molto grossa che vende tantissimi orologi online uno dei proprietari stefano che ringrazio come sempre per la fiducia e la persona che dovete contattare qualora abbiate dei dubbi delle curiosità o vi piaccia questa referenza contattati direttamente lui per chiedere tutte le informazioni di cui avete bisogno non sono concessionari solo di eberhard ma di tantissimi marchi provo a memoria elencarvene qualcuno ubot seiko tisso emilton mido oris insomma ce ne sono davvero tantissimi in continua evoluzione vulcan nivada insomma è davvero un punto dove potete trovare tantissime referenze che vi possono appassionare e piacere e sono assolutamente gentilissimi con chiunque molto anche pazienti con noi appassionati e queste cose messe insieme sono sicuramente la scintilla giusta per trovare poi il modello che state cercando a me questo orologio è piaciuto tanto è piaciuto tanto perché è una referenza particolare con tante soluzioni tecniche dal cinturino al fondello è un orologio ben costruito grande di di statura visto la canzone che abbiamo ascoltato però c'è un elemento che non mi ha convinto fino in fondo ma ve lo dirò solo alla fine del video così lo vedete tutto voglio cominciare facendovi vedere alcune chicche di questo orologio come già detto sul fondello interamente lucido troviamo la scritta eberhard and co wunderbilt cup chronograph e uno dei primi elementi tecnologici interessanti di questa referenza ovvero il pulsante sopraccitato basterà infatti in modo molto semplice andare a premere e guardate il fondello si apre e vi mostra quelli che sono i dettagli la tartaruga di tazio nuvolari la firma tn e la firma completa che troviamo sul fondello in vetro zaffero davvero una chicca non da poco possiamo inoltre vedere la rifinitura del movimento con del perlage e la massa oscillante che è impreziosita da cot de genève vitre azzurrate e lungo tutto il fondello troviamo le viti che vanno a serrarlo davvero una chicca secondo me strepitosa così come trovo davvero interessante la chiusura che proverò a spiegarvi vedete questa forma questa forma è quella che va a rendere l'orologio a chiudere l'orologio monosemplice in questo momento come vedete avete sentito il clic andando a muovere la levetta ecco che l'orologio non si potrà più muovere è chiuso andando a spostare la levetta verso il basso ecco che l'orologio tornerà ad essere apribile perché nel momento in cui si fa questa operazione praticamente si va a chiudere e non si permette di avere più quella simmetria tra il rettangolo della chiusura e quello della chiusura davvero una chicca così come eberhard che troviamo qui finemente inciso con quella che è la de click brandizzata da eberhard perché si tratta di una chiusura che è personale solo di eberhard restando sul cinturino vediamo come sia notevolmente spesso con questo tocco rosso molto bello questa puntura gialla in contrasto col beige del resto del cinturino un cinturino davvero ben fatto in cuoio molto davvero interessante la chiusura l'abbiamo vista è davvero una una chicca non da poco e mi sento di dire che da questo punto di vista l'orologio è promosso a pieno andiamo a rivedere quello che il funzionamento del crono si aziona col pulsante grande che troviamo a ore 2 si va ad arrestare con lo stesso pulsante ed è sulla corona che troviamo invece il pulsante di reset andandolo a premere come vedete l'orologio torna al suo punto iniziale abbiamo dei numeri molto eleganti all'interno di tutto l'orologio con quelli che sono i tre contatori di per quanto riguarda secondi per quanto riguarda minuti fino ai 30 e le 12 ore davvero realizzati a regola d'arte con ampio spazio così che si possano prendere i tempi in maniera davvero ottimale è bello osservare da vicino la carour perché ci permette di vedere il logo tazio nuvolari sul pulsante cronografo e le eberhard in rilievo sulla corona di carica che funge anche da da pulsante cronografico per il reset come vedete sulla spinta per andare ad aprire il fondello c'è anche una freccia che permetterà a chi magari non lo sa come andare ad aprire il fondello per il resto la carour è interamente lucida non sono presenti biselli o altro o lavorazione di sorta ricorda un po quello che potrebbe essere un diciamo così un orologio di altri tempi quasi un orologio da tasca se vogliamo perché nel suo diciamo così risultato finale vuoi per la parte così vintage del quadrante vuoi per alcuni elementi come ad esempio il fondello che si apre così come era solito vedere negli orologi da tasca sicuramente è un elemento molto apprezzabile abbiamo un diametro di 42 mm uno spessore di 16.6 un lag to lag abbondante da 51.8 mm uno spessore di 16.6 abbiamo un cinturino da 20 sicuramente un orologio che come dire fa presenza è in dubbio però parliamo di un crono parliamo di un crono meccanico quindi lo spessore bisogna metterlo in conto spessore che è stato mitigato proprio in maniera sapiente andando ad allungare quelli che sono le anse che vediamo essere molto allungate rispetto al resto della cassa questo va a diminuire di molto l'effetto generale dell'ingombro al polso il calibro che voglio farvi rivedere come è facile mostrare eccolo qui è un base 77 50 quindi abbiamo un classico calibro valgiù molto affidabile e solido abbiamo quindi un movimento che sicuramente piacerà ai un calibro su base valgiù molto affidabile con 30 rubini e 28.800 alternanze ora un calibro quindi molto solido riconosciuto che sicuramente apprezzeranno i più che sanno che di fronte a un movimento come questo qualsiasi orologiaio in tutto il mondo potrà metterci le mani il trattamento antiriflesso del vetro zaffero è davvero molto buono e possiamo vedere come non ci siano davvero imprecisioni di sorta o deformazioni un altro elemento molto particolare che mi preme sottolineare è l'impermeabilità di soli 30 metri quindi mi raccomando nella gestione di questo orologio in qualsiasi condizione preveda schizzi d'acqua osservando da vicino al quadrante possiamo ammirare quelle che sono i dettagli di questo quadrante quasi porcellanato con queste con questa minuteria azzurra davvero molto bella totalmente assente pasta ominescente su tutto l'orologio apprezzo particolarmente la scelta di mettere pochi dettagli su questo orologio troviamo infatti il solo logo ebrard enco a ore 12 e la scritta swiss made posta al posto dell'indice che troviamo ore 6 lungo ovviamente tutta la parte esterna del quadrante troviamo la scala tachimetrica che ci permetterà di fare dei conteggi complessi le finituri generali sono davvero realizzate molto bene così come anche la macro ci sta permettendo di visionare eccoci mi starete chiedendo pietro hai detto tutte cose bellissime su questo orologio sì che cos'è che non ti è piaciuto ragazzi un po il prezzo perché il prezzo secondo me comunque considerando tutto lo capisco è un marchio secondo me importante non è ovviamente un micro brand però 5670 euro un crono che monta un movimento con base sellita sono sono tanti l'orologio deve proprio piacere a me ad esempio piace tantissimo questo ve lo posso assicurare perché ha davvero la qualità in ogni aspetto elementi brevettati insomma l'orologio piace e mi piace parecchio però insomma ragazzi la cifra sicuramente è importante e su quelle su quelle diciamo così cifre si si fa fatica perché si iniziano a trovare tante referenze e di conseguenza bisogna un po sgomitare per riuscire a trovare il proprio il proprio spazio io lo aggiungerò in collezione sì al giusto prezzo lo aggiungerò in collezione io vi saluto vi ricordo i canali dove entrare in contatto con me facebook instagram telegram gruppo facebook dedicato all'offerta per gli orologi tik tok il sito di ora.it ciao ragazzi alla prossima